Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere i problemi riguardo a Call of Duty che non si avvia direttamente su Steam oppure Battle.net quindi in questo caso se provo così ad avviare il gioco mi dice che l'applicazione ha smesso di funzionare quindi può essere che nella sua cartella mancano dei file oppure l'antivirus blocca dei file però non lo fa apposta però dice che sono delle minacce però possiamo sempre aggiungerlo nelle eccezioni ed ecco l'error del game Steam Ship.exe quindi in questo caso bisogna per forza consentire la verifica dei file del gioco quindi chiudiamo un attimo il gioco quindi chiudiamo tutto andiamo un attimo sul nostro Windows Defender eccolo qua protezione da virus e minacce gestisci impostazioni aggiungi o rimuovi esclusioni aggiungi un'esclusione e andiamo così ad aggiungere la cartella di Call of Duty vai direttamente nella libreria di Steam quindi Steam Maps Common Call of Duty e inserisco così la cartella qui dentro se invece vuoi rimuoverla basta che ci clicchi sopra e fai rimuoverla chiudiamo un attimo qua e andiamo direttamente sulla rotella qua gestisci proprietà file installati verifica integrità dei file del gioco farà un ripristino dei file nella sua cartella una verifica e poi riscarica dei file mancanti e li sostituisce con file più aggiornati mancavano all'incirca 66 file quindi non sono stati convalidati e verranno riscaricati prima di avviare il gioco andiamo direttamente alla sua cartella quindi sfoglia i file locali scendi fino a giù fino a trovare così code.exe tasto destro sopra mostra attropazioni proprietà compatibilità esegui questo programma come amministratore firme digitali dettagli visualizza il certificato installa il certificato utente corrente facciamo avanti e facciamo fin importazione completato hai ricevuto altri problemi anche a call of duty riguardo ai suoi driver devi aggiornare anche la tua scatavideo quindi in questo caso se usi nvidia puoi usare geforce experience oppure nvidia app io uso nvidia app quindi scarica così la beta vai direttamente è proprio quasi identica al geforce experience quindi vai su nvidia app vai su driver e vedi devi fare qualche aggiornamento driver studio oppure driver game ready e devo fare un aggiornamento scarico installo e riavvio il sistema stessa cosa anche con amd però per amd devi scegliere così il tuo dispositivo scatagrafico processore o chipset cerchi qua il tuo dispositivo cerchi e scarichi così quel driver e lo installi invece se hai ricevuto l'errore all'avvio su battle.net dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto su steam quindi verificare che nella cartella ci siano tutti i file quindi andiamo direttamente su battle.net se hai il gioco installato su battle.net qui c'è la rotella quindi ci clicchi super e fai ripara il gioco quindi stessa cosa anche su steam se ci sono dei file mancanti dobbiamo vedere di ripristinarli quindi convalidarli e poi riscaricare questi file più aggiornati una volta fatto entri così nella sua cartella lo metti come amministratore stessa cosa che abbiamo fatto con steam installa il certificato e avvia il gioco per vedere se funziona se no chiudi il launcher riavvia il sistema accendi il pc riapri battle.net e apri il gioco e prova a vedere se funziona ora non mi resta che avviarlo su steam il gioco si sta avviando quindi niente nessun nessun errore gameship è che si quindi il gioco è andato l'aggiornamento richiede il riavvio va bene quindi riavvia il gioco fa l'aggiornamento riapre il gioco di nuovo e posso giocare quindi grazie a tutti per questa visione se hai altri problemi ci sono altre guide nella playlist in alto a destra nelle schede grazie a tutti e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 Grazie a tutti.